La Banca Centrale Russa, ottimista sul rilancio dell'economia, taglia per la prima volta nel giro di quasi un anno il tasso di interesse di riferimento di mezzo punto percentuale, portandolo al 10,5%. Per l'Istituto Centrale la ripresa è imminente e l'inflazione è più stabile. Quest'ultima è al 7,3%, ridotta di oltre la metà rispetto allo scorso anno. Ha pesato positivamente il rialzo dei prezzi del petrolio, che ha sostenuto il rublo. In funzione della tendenza dell'inflazione, la Banca Centrale Russa ha aggiunto che potrebbe decidere di ridurre ulteriormente i tasti di interesse.